Roberta Capua torna in Rai, brava è il suo nuovo toc Ritorno al passato per Roberta Capua. . Dopo 15 anni di assenza, la conduttrice napoletana, 49 anni, è pronta a tornare in Rai, azienda che all'inizio degli anni 2000 le ha affidato programmi di punta. Alla X Miss Italia andrà un nuovo talk show intitolato Brava, in onda su Rai Premium da stasera, mercoledì 11 aprile, alle 23. . Il programma partirà da un punto di vista femminile per proporre a tutti, in modo semplice e brillante, persone e storie speciali, uno sguardo nuovo su ciò che ci circonda. . . . Lo show non avrà confini, grazie alle immagini e ai servizi dei filmmaker inviati in tutto il mondo ed è un talk magazine di costume, società e intrattenimento, con una strizzatina d'occhio alla cultura e l'approfondimento. . . . Ogni ospite avrà una storia interessante da raccontare, un valore speciale da approfondire. . Nelle rubriche della trasmissione le due parole d'ordine saranno curiosità e fantasia. . 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